Avere la certezza del vincitore significa avere anche la certezza di chi sia il responsabile nei cinque anni di legislatura per chi fa o non fa le cose. E in un Paese in cui individuare il responsabile a tutti i livelli sembra un sogno ad occhi aperti, avere una legge elettorale che dà una responsabilità certa al governo e alla maggioranza che lo sostiene, a mio avviso, è un valore innegabile.